Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del telegiornale è dedicato al saluto del procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Gela, Lucia Lotti. Il magistrato da otto anni in città lascia per trasferirsi a Roma dove ricoprirà il ruolo di procuratore aggiunto. Ieri commozione tra i colleghi e le alte figure istituzionali durante la cerimonia di commiato che si è svolta nel presidio giudiziario. Vediamo. Il procuratore Lucia Lotti dopo otto lunghi anni di onorato servizio abbraccia la città prima di partire per Roma dove andrà a ricoprire il prestigioso ruolo di procuratore aggiunto. In una gremita aula del Tribunale di Gela colleghi e collaboratori che non celano commozione esprimono gratitudine ad una professionista magnifica e una grande donna. Gli interventi che si susseguono ne traccia nel profilo. Apre la cerimonia il presidente del Tribunale Paolo Fiore che di Lucia Lotti racconta. Fa utrice di importanti cambiamenti e progressi come ad esempio l'informatizzazione dei processi, novità che peraltro ha fatto guadagnare al presidio gelese la qualità di modello da seguire in Italia. Dotata di eccellenti caratteristiche che le hanno consentito di formare nuovi magistrati e creare così un team in ufficio di eccellenza. Segue l'intervento del prefetto Cucinotta che non manca di sottolineare come le donne facciano più fatica per affermarsi ma quando poi arrivano ai vertici nessuno più le ferma grazie alla forza di volontà e alla tenacia. Il presidente della Corte d'Appello ricorda il periodo difficile vissuto in procura precedentemente all'insediamento di Lucia Lotti. È precisa che i magistrati avevano bisogno proprio di essere incoraggiati e coordinati da una guida sicura che nel procuratore hanno trovato. Il magistrato ricorda le inchieste mai avviate prima a Gela e intraprese invece da Lucia Lotti su salute, inquinamento e ambiente. Non trascura neanche di sottolineare la grande umanità della donna e lo splendido ed esemplare rapporto con i colleghi ma anche con tutte le forze sane della città, in particolare con alcune associazioni e le scuole di ogni ordine e grado. Il procuratore generale Sergio Lari racconta lo stretto rapporto di collaborazione con la procura distrettuale in otto anni di attività. È la volta poi del presidente dell'ordine degli avvocati Emmolo che ricorda con quale energia la procura insieme al foro abbia intrapreso molteplici battaglie a favore del presidio di giustizia gelese per la copertura dell'organico e l'informatizzazione. L'avvocato esprime infine gratitudine a Lucia Lotti per aver amato Gela incondizionatamente. Molti altri rappresentanti istituzionali hanno voluto prendere parte alla cerimonia con un intervento. Il presidente della Camera Penale, l'avvocato Giacomo Ventura, il sindaco di Gela Domenico Messinese che ha donato un omaggio al procuratore, il magistrato Antonio D'Antona e ancora il GIP Veronica Vaccaro che commossa descrive Lucia Lotti, fulgido esempio della vera arte del comando con un encomiabile spirito di servizio. Intervengono tra gli altri anche il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo che ringrazia il procuratore per i numerosi contributi umani e professionali alla scuola e agli studenti con i quali è stato intrattenuto un dialogo privilegiato, ma l'intervento più atteso è il suo. Quello dell'attuale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta, Fernando Asaro, indicato in attesa di ufficialità della nomina come il nuovo procuratore capo di Gela. Asaro, con una garbatissima punta di ironia, afferma, riferirò di questa cerimonia e delle parole straordinarie dedicate a Lucia Lotti al nuovo procuratore che si insedierà. Magari rimedita la scelta. Certo, il procuratore Lucia Lotti lascia a Gela un'eredità di inestimabile valore. Ogni pensiero a lei dedicato converge su un unico concetto generale. Lei è stata capace di essere un solido punto di riferimento per tutta la città onesta. Insomma, una cerimonia, quella di ieri, un'usta di emozioni e anche commozione dedicata ad una donna, prima che al procuratore, che ha dimostrato giorno dopo giorno di amare Gela molto più di tanti gelesi. Noi della stampa non potremo mai dimenticare la conclusione del suo ultimo bilancio di responsabilità sociale, quando le ultime immagini di un lungo discorso furono dedicate al patrimonio archeologico di inestimabile valore, custodito a Gela nelle teche, nei siti visitabili, ma anche nei fondali marini e nel sottosuolo. È da lì che Gela deve ripartire, affermò in quell'occasione Lucia Lotti, dalla sua ricchezza e dalla sua bellezza. Questo è il miglior augurio che una città come la nostra poteva ricevere. Forse un giorno scriverò di questa esperienza, di questi otto lunghi anni trascorsi a Gela. È stata un'esperienza meravigliosa, ricca di moltissimi stimoli. Ha esordito così il procuratore Lucia Lotti nel corso della cerimonia di commiato ieri in tribunale. Senza il supporto di mio marito e di mia figlia non ce l'avrei mai fatta. Continuato, ho vissuto la complessità di Gela come un elemento di forte attrazione. Le difficoltà ci sono state, ma ho trovato personale fortemente reattivo. Ho condiviso il mio lavoro con molti colleghi e con il foro di Gela. Ho sempre pensato che il nostro obiettivo principale fosse quello di dare delle risposte ai cittadini. A Gela non mi sono mai sentita sola. Sentiamo. Dottoressa, un intervento veramente molto sentito, sia anche commossa. Il primo ringraziamento a suo marito. È stato veramente un momento molto bello per lei, ma me lo lasci dire anche per tutti noi. Beh, mi fa piacere. Insomma, io ho parlato come si parla veramente a una comunità molto vicina che fa parte integrale, integralmente del mio modo di essere e della mia vita. Quindi ho parlato con l'idea che chi ascoltava era veramente in sintonia con il mio sentire. Il rapporto con la stampa è sempre stato un rapporto di rispetto, ma anche di grande discrezione. Lei ha detto che non ho partecipato ai salotti televisivi perché bisognava risolvere dei problemi. Ho telefonato in un giorno solo a tutte le autorità che potevano aiutarmi. Sì, diciamo ci sono i salotti televisivi e c'è il lavoro della stampa quotidiana, dei media quotidiano come il vostro, che io ho sempre rispettato perché ho trovato veramente grande professionalità e grande correttezza nel vostro lavoro. Orgogliosa di aver contribuito a far crescere un po' questa realtà, ma questo ho potuto fare perché c'è stata una grande sinergia, perché ho trovato persone, ho trovato professionalità che credevano nello stesso percorso. Abbiamo costruito, abbiamo costruito tanto e quindi abbiamo lasciato un qualcosa che spero solido. Assistiamo alla totale assenza di programmazione turistica dell'amministrazione messinese, priva di un qualsivoglia programma politico, naviga, vista, senza rotta e timone. Lo dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Mentre il vice sindaco appare in tutti i settori economici, senza però produrre risultati rilevanti, la città di Conegrillini in una nota vive nel buio assoluto. Così, dopo un anno di governo, con l'assessore Salinitro che sbandiera la rinascita turistica, questa amministrazione non ha generato alcuna economia legata al turismo, perché il turismo è un'industria complessa che chiede delicata programmazione e non fantasiose soluzioni. Dopo gli improbabili viaggi in elicottero e le trasferte ad Expo, la città di Gela continua ad avere il suo museo chiuso nei giorni festivi. I resti della nave greca esposti in orario feriale, ma nel weekend tutto serrato. Sarà così anche per il Ponte Lungo del 25 aprile. Niente aree archeologiche per nessuno. Il direttore del museo allarga le braccia, ma è giusto chiedere quale programmazione abbia l'amministrazione per l'economia turistica. E qui arriva il buio. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sottolinea che manca un progetto per l'economia del turismo, manca sui collegamenti del trasporto extraurbano, manca una programmazione per la pedonalizzazione e valorizzazione del centro storico. Mentre il museo prende polvere e rimane chiuso nei giorni festivi, giorni in cui si dovrebbe fare turismo, il sindaco cacciato dal Movimento 5 Stelle, colui che ha avvoltato le spalle all'elettorato, si legge ancora, sembra avere perso la bussola senza programma. Purtroppo non si costruisce nulla. Adesso occupiamoci della vicenda autobottica. Caltacqua risponde al sindaco di Gela. Non è il nostro compito fornire le autocisterne nella zona di Manfria. Sentiamo. L'ordinanza emessa dal sindaco di Gela, che impone a Caltacqua di distribuire l'acqua per usi domestici e con le autobotti nelle zone del territorio comunale, attualmente non dotate di rete di distribuzione, prospetta una soluzione non confacente alla problematica in questione. Lo dice Caltacqua, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta, che in una nota puntualizza che il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotti non è contemplato tra gli obblighi stabiliti in capo al gestore richiamati dalla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato. Quanto poi alla previsione della carta del servizio, è bene specificare, dice Caltacqua, che il ricorso alla distribuzione con autobotti può avvenire solo nei casi previsti da un apposito articolo che si occupa di interruzione del servizio. Nel caso specifico, sottolineo ancora la nota, non si tratta di interruzione in quanto nelle zone in questione non è ancora stata realizzata nemmeno l'infrastruttura di distribuzione. Un simile servizio, volto a soddisfare la legittima esigenza dell'utenza in prossimità della stagione estiva con il conseguenziale aumento dei residenti stagionali, può essere previsto solo ed esclusivamente in forza di una specifica convenzione. Già il 15 aprile scorso Caltacqua ha provveduto a sottoporre al sindaco di Gela una proposta di convenzione con puntuale disciplina di compiti, modalità operative e quant'altro indispensabile ad un buon funzionamento del servizio. La proposta di convenzione non ha sin qui avuto alcun riscontro dagli uffici comunali. L'obbligo immediato è imposto a Caltacqua di provvedere al servizio di distribuzione con autobotti nelle zone non servite con la previsione di una rivalsa del Comune sul gestore in caso di inadempimento non potrebbe mai avvenire se non a condizione di violare la legge. Il servizio infatti va affidato a soggetti esterni e ciò richiede, secondo la normativa vigente sui contratti pubblici, il rispetto di un preciso iter e l'approvazione o ratifica da parte dell'autorità d'ambito in rispetto ai poteri alla stessa conferiti come richiamati alla Convenzione di gestione. Caltacqua, nella nota, ribadisce infine di avere già formalizzato una proposta al Sindaco per l'espletamento del servizio in questione e rimane in attesa di discontro per poter risolvere il problema degli abitanti di quelle zone. La CGL, in rappresentanza dei lavoratori impegnati nel servizio igiene ambientale, ha sollecitato il Comune a chiarire la posizione debitoria che la Tecra ha nei confronti dei dipendenti e riferita al mese arretrato. Non è compito e neppure rientra tra le competenze del Sindacato e dei lavoratori intervenire nel merito e quindi nel riconoscimento o meno del debito fuori bilancio, si legge in una nota. È invece compito del Sindacato chiedere al Comune di mobilitarsi autorevole nei confronti della Tecra per concordare i tempi di pagamento del mese in discussione, sapendo che vicende di natura burocratica non possono ingidere sul rispetto del contratto nazionale e quindi sulla serenità che ogni lavoratore merita. La CGL già lo scorso mese ha proclamato lo sciopero, ha incontrato le parti presso la prefettura di Caltanissetta, ha preso atto positivamente delle dichiarazioni dell'amministrazione riferite al pagamento delle fatture così da eliminare ogni alibi sui ritardi all'azienda. Ma ora la CGL chiede tempi certi per rimettere in linea il mese lavorato e il diritto alla puntualità della retribuzione. La stessa sigla sindacale ha già formalizzato alla Tecra il versamento di un acconto di mille euro prescindendo e anticipando l'esito del voto del Consiglio Comunale di quanto sta avvenendo è stata informata la prefettura. Torna domenica 24 aprile prossimo la festa delle oasi e riserve Lipu con una giornata rivolta a tutti per staccare dal caos delle città e riscoprire colori e suoni della natura. Una giornata di festa che coinvolge le più belle oasi e riserve naturali Lipu una rete di 30 aree protette che copre una superficie di quasi 5.000 ettari accoglie oltre 4.000 differenti specie animali e vegetali ed ospita bambini delle scuole e turisti italiani e stranieri a Gera. L'appuntamento è previsto presso la riserva naturale biviere di Gera Lipu che dal 1997 con impegno quotidiano protegge, preserva e promuove una ricchezza di tutti. dalle 9.30 poi con la mostra fotografica un mondo di ali immagini della vifauna del biviere di Gela e la liberazione di rapaci e uccelli acquatici recuperati dal centro recupero fauna selvatica di ficuzza. Con i proclami non si fa il pane il presidente dell'associazione dei pescatori del porto rifugio di Gela Davide Calabrese ribadisce ancora una volta che il porto gelese versa in stato di abbandono un fatto tristemente noto dopo l'indignazione suscitata dai fondi erogati per il porto di Marsala contrapposti al silenzio calato per il porto di Gela il presidente della regione il gelese Rosario Crocetta non trova meglio da fare che il solito proclama in favore del nostro porto ma rimarca Calabrese con i semplici proclami non si liberano le barche da un porto insabbiato non si realizzano le condizioni minime di sicurezza non si assolve il dovere dei pescatori nei confronti delle loro famiglie lavorare vogliamo che sia convocata subito la conferenza dei servizi che ci era stata promessa per l'inizio di aprile vogliamo conoscere dice ancora Calabrese i contenuti dal protocollo attuativo tra Eni e Regione Sicilia per capire che tipologia di investimento è prevista pretendiamo che vengano utilizzate le compensazioni così come previsto dal protocollo Eni sottoscritto il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico pretendiamo inoltre che i deputati regionali i gelesi Giuseppe Arancio e Pino Federico diano seguito agli impegni presi nel corso dell'ultima riunione ad ogni modo anche se l'iter procedesse secondo quanto previsto da qui sino alla realizzazione degli interventi all'interno del porto come faremo ad uscire e quindi a lavorare chi ci garantirà un reddito dignitoso interrogativi che al momento non hanno risposte adesso il tempo è scaduto a Chiosa Calabrese i pescatori riuniti in associazione ed il comitato del porto di Gela si mobiliteranno al fine di promuovere le azioni che riteranno opportune per riprendersi la dignità di lavoratori sottratta da troppo tempo un itinerario in bici lungo la piana di Gela per avvistare le cicogne bianche la FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Nanocicli di Gela organizza domenica 24 aprile prossima il Cicogna Day proprio per gli amanti della natura e del due ruote ecologico si tratta di un lungo itinerario cicloturistico della rete Eurovelo che passa proprio nel territorio del comune di Gela è chiamato la ciclovia dei campi geloi in memoria dell'antica storia del territorio locale appuntamento previsto per domenica alle 8.30 con il raduno nei pressi della stazione ferroviaria è in edicola il terzo numero del magazine Mad in Sicili Gulizzi edizioni diretto da Giusy Costanza il giornale propone un'esclusiva dedicata alla vicenda a Lucarelli in questo numero anche uno speciale giubileo della misericordia gli attentati a Istanbul la donazione di midollo di un gelese che ha salvato la vita ad una giovane romana e ancora salvo la rosa con il suo meraviglioso gelese imprenditori di arancini a Roma e tanto altro Mad in Sicili lo trovate già in edicola stasera torna sui teleschermi di Canale 10 come ogni venerdì sera agora il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra emittente ideato e condotto da Franco Gallo metterà al centro del suo salotto televisivo un tema che ai più distratti potrebbe sembrare soltanto legato alla sfera sportiva ma che in realtà investe a tutto tondo anche gli aspetti sociali e soprattutto di immagine in questo caso positiva della nostra città Gela che torna nel calcio che conta e quali i risvolti di questo ritorno nel panorama nazionale dello sport più amato dagli italiani saranno il tema portante della puntata odierna di Agora appuntamento alle ore 21 dunque su canale 10 per una nuova puntata di Agora e del Gela Calcio parleremo anche nella seconda parte del telegiornale pubblicità bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale si terrà oggi alle 18 nei locali della libreria Mondadori in via Marconi al numero 25 a Gela la presentazione del libro di Salvatore Nicosia dal titolo pane amaro ne discuterà con l'autore Liborio Mingoya cerimonia di premiazione del Gela Calcio dopo la conquista della serie D appuntamento oggi nella Pinacoteca Comunale vediamo dei vasetti in argilla raffigurante la gorgone distribuiti ai quadri dirigenziali e tecnici del Gela Calcio cerimonia di premiazione questa mattina nei locali della Pinacoteca Comunale la conquista della serie D è un altro tassello che si aggiunge alla cavalcata trionfale del club biancazzurro ripartito dalla terza categoria quinta promozione di seguito oggi veniamo a ricevere questo premio da parte dell'amministrazione è l'ennesimo anno che veniamo in questa stanza con grande orgoglio dopo un'annata di durissimo lavoro di grandissimi impegni i ragazzi ci hanno messo davvero anima e corpo per arrivare al risultato che abbiamo conseguito solo quattro giorni fa è un premio giusto è un ringraziamento che formalmente diciamo la città fa con il suo sindaco a nome della città proprio nei confronti di tutti i ragazzi che molti non sono di gela quindi è giusto avere anche sul piano formale questo momento di premiazione quanto è importante per te essere il capitano di un gruppo così solido amalgamato vincente credo Intanto è un gruppo fantastico ne sono veramente orgoglioso e per me avere un gruppo così ti facilita anche il compito di gestire lo spogliatoio perché sono tutti bravi ragazzi vogliosi di lavorare e di migliorarsi e quindi anche per questo sono arrivati ottimi risultati la società Biancazzurra ha ricambiato donando al sindaco e all'assessore allo sport la maglia ufficiale del Gela Gela Calcio rappresenta una parte importante della città compreso con i tifosi ha anche una sua evidenza economica ma non è sicuramente il predominante è chiaro che lo sport se fatto bene è fatto con intelligenza può rappresentare una risorsa economica più lo stadio è accogliente più viene la voglia di seguire la gesta di una squadra di calcio è normale abbiamo bisogno insomma di avere uno stadio all'altezza della quinta città della Sicilia piccoli interventi lo possono rendere più usufruibile da parte dei cittadini dei tifosi ed essere un biglietto da visita per tutta la città e il primo acquisto in casa Gela Calcio si chiama Totò Bruculeri l'allenatore Biancazzurra è stato riconfermato dalla dirigenza anche per il prossimo anno lo sentiamo ai nostri microfoni Totò Bruculeri possiamo definirla un vincente perché due promozioni consecutive con Gela sono importanti no non è una persona normale non penso che il discorso di chiamarsi vincente abbia qualcosa in più il discorso è bisogna anche capire e sottolineare che c'è dietro questa figura anche una grande cultura di lavoro e allora forse magari sia la strada giusta da percorrere il più bello regalo che hai ricevuto nelle ultime ore è la riconferma per il prossimo anno sì penso meritata per quello che ho fatto il presidente ha deciso di confermarmi significa che vuole ancora salire qualche gradino no? lui non si accontenta dei play out ma vuole andare oltre e lei affare di vittorie? ma ancora siamo lasciati in prionale per cui il campionato di Serie D è totalmente diverso da quello dell'eccellenza ci sono tantissime cose da fare da discutere per cui ci facciamo un campionato professionistico perché andiamo oltre lo stretto già andare oltre lo stretto abbiamo fatto qualcosa di importante e giocherete contro squadre che rappresentano capologhi di provincia non dimenticando il fatto che ci sono anche le squadre che procederanno dalla Lega Pro sì c'è questo grande piacere di venire all'Italia insomma no? passando lo stretto una battuta però sai da noi le pietre si chiamano Sass sappiamo benissimo che dobbiamo smuovere facendo un passo indietro quando ha capito che il Gela il campionato l'avrebbe vinto? ci sono stati momenti in cui la squadra ha avuto quella grande relazione di canale risultati dopo risultati con un cammino importante abbiamo fatto sei vittorie consecutive da quel momento ci siamo staccati di cinque punti insomma da là ho capito che era la strada giusta la grande storia di Mattia Bazzar appuntamento previsto oggi alle 21 al teatro comunale Eschilo di Gela sul palco si esibiranno l'orchestra ritmico sinfonica e l'ensemble vocale oltre voci diretto da Paolo Lirosi per informazioni e prenotazioni 0933911892 proseguono gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione musicale Giuseppe Navarra di Gela domenica 24 aprile alle 19.15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto lirico con Irene Capodici mezzo soprano e Rossella Cardullo al pianoforte c'è l'informazione cinematografica è un paese quasi perfetto con Fabio Volo il film in programmazione al cineteatro antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30 19.30 21.30 sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo attenti a quei due con Guglielmo Greco Emanuele Giammusso e Lori Ardore con lo spettacolo il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi vi ricordiamo che notizie servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che Canale 10 possiede anche un altro strumento che è il televideo costantemente aggiornato arrivederci grazie a tutti grazie a tutti